Psicologi al fianco degli agenti della Polizia Postale di Catania per tutelare i minori nelle indagini sullo sfruttamento e l'abuso sessuale. È possibile grazie ad un protocollo di intesa tra Questura, Procura Distrettuale dei Minori e l'Ordine dei Psicologi Siciliani. Gli investigatori, durante le indagini, potranno contare sull'esperienza, le conoscenze e le competenze di professionisti esperti del settore. L'intesa è stata firmata dal Questore Marcello Cardona, dal Procuratore Distrettuale Michelangelo Patanè, dall'Aggiunto Marisa Scavo e dal Presidente Nazionale dell'Ordine Psicologi Fulvio Giardina. La nostra esperienza investigativa ce lo conferma, avere l'assistenza di uno psicologo, di uno psicologo esperto preparato, dà la possibilità anche di tirare fuori dalla vittima, da chi comunque sa qualcosa, dal minore che sa qualcosa, informazioni importanti che magari solo il poliziotto non riescono a tirar fuori.